Da questa esperienza mi sono portata a casa tante cose, partendo da una bellissima esperienza di convivenza con la mia coinquilina e a, come già detto, tutte le persone che ho conosciuto al lavoro. Ho potuto migliorare il mio livello di spagnolo e ho potuto viaggiare un po', quindi quello che a me piace più fare. Consiglio questa esperienza ad altre persone perché, a parte un arricchimento dal punto di vista personale, che ti dà tantissimo, anche a livello professionale è un modo per conoscere un'altra realtà, altri modi di lavorare, altri ritmi, altre tecniche e di vedere un'altra prospettiva lavorativa che ti apre un po' gli orizzonti nel vedere le cose.